Una collaborazione importante che ha portato davvero a dei grandi frutti, quella che è nata tra il laboratorio di falegnameria dei diversamente mobili insieme alla proloco di Pitelli, ovviamente con il sostegno dell'amministrazione. Ecco oggi la presentazione della realizzazione di queste panchine che rappresenta davvero un esempio di cittadinanza attiva per questo borgo. Sì, parte proprio da Pitelli questo progetto che vede la realizzazione di panchine fatte con dei pallet, quindi con del materiale di recupero che verranno installate in piazza degli orti. Sono una decina e sono state progettate dal laboratorio di diversamente mobili che fa capo al centroasso insieme ai cittadini di Pitelli, quindi insieme alla proloco con la supervisione dell'amministrazione comunale e dell'assessorato da partecipazione e decentramento. Sono stati proprio i cittadini a scegliere quale delle panchine proposte e poi installare, saranno infatti 10 le panchine che saranno poste proprio a Pitelli? Sì esatto, in questi mesi i ragazzi della Falegnameria hanno progettato tre prototipi che sono stati poi posti al vaglio dei cittadini che hanno scelto quella che secondo loro era più idonea per la piazza, studiandone proprio le funzioni e quindi trovando quella che secondo loro potesse essere più adeguata per essere installata in quella zona di piazza degli orti. Ecco, tra l'altro questo può rappresentare perché no anche un esempio per altri borghi, per altri luoghi del comune, della provincia, tant'è che queste panchine sono anche certificate, quindi perché no, magari qualcuno può prendere spunto anche da questa iniziativa? Certo, siamo partiti proprio da Pitelli proprio perché la realtà della Proloco è una realtà molto importante per il territorio che si occupa del borgo con le forme più alte di cittadinanza attiva e questo progetto ne è la dimostrazione. E come è stato realizzato a Pitelli può essere esportato anche ovviamente in altri quartieri. I ragazzi della Falegnameria, che tra l'altro sono circa una decina anche loro e con le loro abilità riescono a costruire dei bellissimi manufatti in legno, si sono anche preoccupati con il contributo poi dell'amministrazione comunale di certificare queste panchine in modo tale che possano essere proprio utilizzate avendo tutte le caratteristiche di arredo pubblico, arredo urbano.